Michele Schumacher Eccolo qua, grande applauso, grazie Michele Adesso inizia la parte più difficile Perché naturalmente aspettano tutti che tu, nella tua lingua madre, l'italiano Dica qualcosa a tutti questi ragazzi Prima devo dire scusa perché siamo in ritardo Perché il taxi che abbiamo chiamato non è arrivato Così siamo quasi a correre Lo guidava Rosberg, Nico Rosberg? Quasi, sì Ricordiamo Michael, un volante dorato, non d'oro Per i tuoi vent'anni di splendida attività Per le grandi emozioni che ci hai regalato Voglio dire anche grazie per tutti di voi Perché? Perché abbiamo fatto i venti anni insieme Abbiamo fatto tutta l'emozione insieme E voi, ha fatto una grande emozione da me Sempre dopo la gara, l'impoglio Abbiamo fatto belle feste insieme L'autrice della scultura, Laura Ferrario, un'artista di Monza L'ha fatto a mano, ha fatto tutto lei, apposta per te Allora, Michael Schumacher Premio speciale alla carriera, vent'anni di Formula 1 Ma soprattutto per la grinta, la determinazione, la combattività Con il fattigianato motori Monza l'Italia nei tuoi confronti Grazie Grazie Grazie